Francesca Pascale Furiosa, scriverò di chi sguazza e mangia con il denaro di Berlusconi. L'ex compagna del Cavaliere risponde alle polemiche nate intorno al film Il loro di Sorrentino. Il film Il loro di Paolo Sorrentino con tono servillo nei panni di Silvio Berlusconi continua a far discutere. La pellicola non è distribuita in Italia, ma è al centro di un acceso dibattito social dopo l'intervista rilasciata da Servillo al podcast di Daio Moccia. È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c'è in Italia. Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese, evidentemente, non mi mettete in imbarazzo. Il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo. Non è stato trasmesso dalla Rai. Non l'ha trasmesso ovviamente Mediaset. Non l'ha trasmesso neanche la Sette, che pure mandò in onda il Divo. Quando uscì, il Divo non aveva diritto d'antenna perché né la Rai né Mediaset parteciparono alla produzione del film. Ha dichiarato l'attore commentando le molte clip del film presenti sulla piattaforma cinese. Parole che hanno suscitato molto clamore e alle quali ha replicato anche Francesca Pascale, ex compagna storica del Cavaliere, che da poco si è lasciata con Paola Turce. Pascale ha commentato il post in cui si legge chiaramente che il film è presente nel catalogo britannico. Scriverò un libro, sull'ipocrisia di quelli presenti nelle piazze anti-berlusconiane nel frattempo che sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi. Titolo, War Cochet. Un commento durissimo quello di Pascale e che sembrerebbe proprio criticare il lavoro di Sorrentino e Servillo. Al momento il film non è in programma che esca in Italia e così sono molte le clip che stanno iniziando a circolare sui social. A comprare il diritto d'antenna sarebbe stata Mediaset che dunque può disporre come vuole, in Italia, della pellicola decidendo o meno di mandarlo in onda. Per questo la frase di Servillo è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo. Nei cinema la distribuzione è universal.